Era il 13 marzo del 2014 quando le organizzazioni sindacali Fenea Will, Filca Cisle e Fillea Cigelle organizzarono una manifestazione di protesta per ricordare alla politica e all'ANAS l'autostrada dimenticata. Ci riferiamo alla Gela Siracusa. È passato oltre un anno e le tre sigle sindacali sono tornate nuovamente sul posto per chiedere il rilancio del settore delle costruzioni per il lavoro produttivo contro gli sprechi e per affrontare la crisi. Durante l'iniziativa si è parlato anche del sostegno all'occupazione e della difesa del lavoro. Noi siamo qui in maniera unitaria oggi proprio per cercare di puntare di nuovo l'attenzione sul settore delle costruzioni. Un settore che noi crediamo, riteniamo che possa giocare un ruolo fondamentale per la ripresa economica di questo paese, per la creazione di nuovi posti di lavoro, perché l'infrastrutturazione di questo paese è alla base per la creazione di un nuovo concetto di sviluppo diverso dal passato. Però ci siamo visti anche l'anno scorso di questi tempi per parlare dell'identico problema. Da allora ad oggi non è cambiato nulla. Hai detto bene, però l'unica cosa che noi possiamo fare è quella di garantire che questa non è la prima e non sarà l'ultima manifestazione. Faremo questa manifestazione in modo da dare il primo segnale e poi comunque andare eventualmente anche alla regione e se serve fare un'azione ancora di più per farsi sentire con la collaborazione di tutti i lavoratori e soprattutto di tutti i disoccupati che oggi vivono un disagio economico che io ricordi non ce ne sono uguale. Evitiamo la desertificazione e lo slogan dell'iniziativa di ieri. Si punta anche al rilancio dello stabilimento Eni. Noi possiamo dire solo una cosa, è l'appello che abbiamo fatto alla regione di approvare immediatamente i piani di bonifica e i piani che servivano per avviare la produzione all'interno della raffineria. Questo sicuramente porterà a dare la possibilità di lavoro all'indotto esistente ma per qualche anno sicuramente a tutta la gente, a tutti i lavoratori edili che sono disoccupati. Se poi a questo noi aggiungiamo le grandi opere che ci sono e che si possono fare nel territorio la cosa grave è che noi abbiamo 90 depuratori da fare in Sicilia, abbiamo il finanziamento però manca la progettazione e le autorizzazioni. In questo caso noi subiamo il danno e la beffa perché i lavori non partono e praticamente andiamo a pagare le multe alla comunità europea.